Ben R-I-T-O-R-N-A-T-I nel nostro canale, News Gossip World, dove le ultime notizie e gossip non mancano mai. Una notizia importante su FedEx. Prima di iniziare questo video, vogliamo darti il benvenuto e chiederti gentilmente di iscriverti al nostro canale, mettere un like se ti piace il contenuto e attivare la campanella delle notifiche. In questo modo, sarai sempre aggiornato su tutte le notizie più recenti. Oggi vogliamo parlarti del noto rapper italiano, FedEx, che ha affrontato recentemente una serie di interventi chirurgici a causa di ulcere e sanguinamenti. La sua salute è stata al centro dell'attenzione e vogliamo darti gli ultimi aggiornamenti. FedEx è stato sottoposto a trasfusioni di sangue ed è stato operato in modo delicato con un intervento di duodenocefalopancreasectomia. L'oncologo Giampaolo Tortora ha spiegato che le emorragie possono essere una complicanza postoperatoria, anche tardiva, e il rischio di sanguinamento dovuto a un ulcere è elevato, considerando la delicatezza del tessuto vicino all'area operata. L'intervento a cui è stato sottoposto FedEx è simile a quello che viene eseguito per altri tipi di tumore. La moglie di FedEx, Chiara Ferragni, ha annullato i suoi impegni per essere al fianco del marito durante questo momento difficile e ha ringraziato i fan per il loro supporto sui social media. Le condizioni di FedEx sembrano migliorare, con una giornata tranquilla senza episodi di sanguinamento, secondo il team medico dell'ospedale Fatebene Fratelli di Milano. Anche se non è ancora chiaro quando potrà essere dimesso, la situazione si sta stabilizzando, portando una luce di speranza per il rapper e i suoi sostenitori. La famiglia di FedEx resta forte e unita nel sostenere il rapper durante questo difficile percorso di guarigione. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video e a seguirci per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per esserti iscritto e averci tenuto compagnia. Ci vediamo presto con un nuovo video.